Tronkin, Enzo, mi chiamassi con Enzo e adesso mi chiamassi con Enzo usciamo dalla Bitlane a 60 km all'ora dobbiamo aspettare niente dobbiamo solo superare la navetta si è messo le 4 frecce dobbiamo superare, certo guarda chiudiamo le mani per favore scala 1.3 adesso andiamo al cordolo bravo, così adesso ti allarghi dolcemente a destra aspetta un secondo ora gli diamo il gas gli ammigliano tutto guarda vinta vinta lascia il freer corte andiamo sulla destra andiamo sulla destra si è un'altra struttura però non puoi fare i preferiti di un gas per noi ce ne fai due allarghiamo sulla destra diamo gas quinta quinta lascia Enzo freniamo scaliamone una scaliamone un'altra andiamo vicino al posto lo vedi così stai stretto eh ora andiamo a sinistra se acceleri così ti punta fuori vedi devi aspettare dai gas no dai gas non cambiare le varie sinistra sinistra dai gas lascia rena rimani con questa marcia cordolo cordolo si si segui il cordolo dai gas allarga a destra dai gas lascia scaglia no perché questo ha 76 kg di coppia dai gas vedi come si riprende dai destra vai a destra preghiamo destra niente niente non ci preoccupare allarghiamo sulla destra allarghiamo 2 cimenti stringiamo allarghiamo sulla destra allarghiamo gas quarta prena 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 dove vai e dire se è finito devi ascoltare me c'è un po' con cazzo da fare dai gas quarta quinta terza lascia aspetta a frenare aspetta a frenare quinta quarta terza giriamo via freni non ci cerca più allarghiamo sulla destra dai gas dai gas dai dai gas quarta quinta sesta lascia vai a destra prena quinta prena quarta terza bravissimo gira intorno un momento eh diamo gas dai quarta quinta prena quarta una forte terza andiamo a sinistra andiamo gas quarta quinta prena sinistra 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 quarta andiamo a destra adesso via freni si guardalo si guardalo dai gas allargati a destra allargati dai gas tagliamoli 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 senza freno andiamo a allargare a destra andiamo gas destra lascialo andare lascialo andare frena a destra destra guardalo un momento un momento un momento un momento allarghiamo sulla destra andiamo gas andiamo a sinistra quarta frena terza vai avanti togli il freno quarta aspetta andiamo gas perché si andiamo gas un momento quarta quarta andiamo a destra troppo presto è cambiato sesta lascia frena venta quarta destra dentro andiamo 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 gas dai quarta quinta quinta lascia lascia lasciando andare come a destra frena destra andiamo andiamo sulla destra andiamo gas quarta quinta lascia frena quarta destra le hai fatte guarda quando sei uscito dalle curve le abbiamo fatte eh prima si è uscito dalle curve che buona dove cambia 670 ok sai che mi chiamo Enzo perchè mi avevo amato fatale si bene fai come un pilota si assolutamente sono tutti i piloti io sono pilota Porsche ah pilota Porsche cosa fate? io ho fatto il careracal careracal il monomarca ma è faticoso fare pilota ma si molto si sapevo che era hyper faticoso ma non pensavo andiamo a destra non ho fatto io non ho fatto io non so ancora in quarta ma lascialo in quarta guarda come è guarda come state guarda anche qui a 20 all'ora guarda questa è una figata che lei si fa più dura che a 20 all'ora ma poi si lo vengono anche i torcelli che sbora che mora mamma mia non dormerò stanotte sono arrivato quasi a 200 ho buttato l'ora 2.10 2.10? è bene o male? è buono è una velocità normale per questa pista il retino non è lungo no non c'è il retino infatti tra l'altro ok fermo qua si è scalato dai tutte le due le palettine per andare in folle tutte le due insieme perfetto non c'è